Fedez torna sotto i riflettori dopo la fine della sua relazione con Chiara Ferragni. L'artista è sempre più presente a eventi mondani, suscitando grandi interesse per la sua vita privata. Un video sui social lo mostra Monaco mentre cammina con una ragazza vicino al circuito del Gran Premio di Monaco. Un evento di grande richiamo per celebrità europee e internazionali. Durante il weekend Fedez ha soggiornato a Monaco su uno yacht documentando tutto nelle sue storie su Instagram. Tra queste spicca una foto di una ragazza a bordo, apparentemente la stessa del video virale, su TikTok. Sebbene il volto non sia chiaramente visibile, il vestito corrisponde a quello della ragazza dai lunghi capelli biondi immortalata sulla barca. Secondo il sito Very Inutil People, la ragazza sarebbe Garance Othier, una giovane modella francese di 20 anni. I due sono stati avvistati insieme già in diverse occasioni. A marzo a Courchevel, poi a Parigi, Miami e a Coccella fino all'attuale incontro a Monte Carlo. Sul profilo Instagram della modella non compaiono storie recenti, ma molti commenti italiani suggeriscono un legame con Fedez. Lo yacht di Fedez è stato un luogo di ritrovo per numerosi volti noti e piloti di Formula 1, tra cui Charles Leclerc, vincitore del Gran Premio di Monaco. Grazie a tutti.